Ciao bambini! Allora ci rivediamo con la geografia. Oggi parliamo degli elementi fissi e mobili. Sono argomenti molto semplici. Bisogna imparare l'uso di questi termini. Vedrete, è molto semplice. In ogni ambiente, a casa, a scuola, fuori, in palestra, ci sono elementi che si possono suddividere in due gruppi. Gli elementi mobili, cioè che possono essere spostati, e gli elementi fissi, cioè che non si possono spostare. Facciamo degli esempi. La finestra non si sposta, e quindi, come la chiamiamo? È un elemento fisso. Mentre il comodino lo posso spostare, anche il letto, il banco, la lampada. Sono elementi che posso spostare, quindi sono elementi mobili. Adesso guardiamo questa scena. Ci troviamo fuori. Siamo all'incrocio di una città. Allora, con il giallo vediamo degli elementi fissi. Per esempio, il palazzo è un elemento fisso. Il semaforo è un elemento fisso. Perché non possiamo spostarli. Mentre con il rosso sono indicati gli elementi mobili. Per esempio, la macchina, il camioncino, o anche le persone che camminano. Guardiamo quest'immagine. Che cosa ci sono disegnate? Case, alberi, automobili, persone, fiume, nave, segnali stradali. Osserva bene. E prova a pensare a quali sono gli elementi fissi che non si possono muovere e quali quelli mobili. Guarda quest'altra immagine. Ci sono case, persone, bicicletta, panchina, fontana, automobili. Pensa a quali sono gli elementi fissi, e cioè che non si possono spostare, e quelli invece mobili che possiamo spostare. Guarda quest'altra immagine. Ci sono bambini, banchi, finestra, libreria, muro, zaino. Pensa a quali sono gli elementi fissi che non si possono spostare, e gli elementi mobili che si possono spostare. Ciao a tutti nella maestra Rosaria. Ciao!